ciao ragazzi da vittorio come vi avevo già detto nel video di ieri mi raccomando andatelo a vedere Ciro Immobile è importante per la Lazio e la priorità a gennaio è trovare un vice perché quest'anno con quella di Venezia salterà quattro partite di campionato pensate che l'anno scorso con il problema covid eccetera Ciro Immobile in totale in tutta la stagione ha saltato solo tre partite di Serie A e l'ultima contro Sassuolo fu l'ultima giornata di campionato quest'anno siamo a dicembre e Immobile salterà la quarta partita un'assenza importante perché bisogna dire Immobile è mezza Lazio l'80 per cento dei gol fatti da Lazio provengono da Ciro Immobile o perché li ha fatti direttamente o perché ha aiutato con assist per questo l'importanza di Immobile è evidente e la sua assenza è importante soprattutto perché vuoi non vuoi non c'è un vice Immobile perché Morici praticamente non gioca mai e quindi bisogna correre a ripari con Felipe Anderson falso 9 e probabilmente contro Venezia sarà così Felipe Anderson falso 9 con Zaccagni e Pedro ai fianchi una soluzione che contro Genova è andata bene contro Venezia secondo me questa soluzione potrebbe essere ancora migliore perché perché a differenza di Genova il Venezia la partita la gioca il Venezia nonostante la posizione classifica è una squadra che gioca a viso aperto e questo è anche un problema perché molti di voi pensano che andare a Venezia sarà una passeggiata e non lo sarà la Roma perso 4 a 1 contro Venezia no qualcuno dirà è rigore bla 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 ci ha perso meditatamente la Juventus ci ha pareggiato a Venezia non è una partita scontata ancor di più visto le difficoltà della Lazio in trasferta Lazio che vero contro Sampdoria ha vinto fuori casa quindi l'ultima partita in trasferta abbiamo portato a casa una vittoria importante perché fuori casa non ne abbiamo vinte tante anzi però è anche vero che la Lazio arriva a Venezia con tanti problemi quello di Immobile ovviamente è un problema grave una senza importante però sappiamo che Isai non sta bene bisogna vedere al centrocampo chi gioca non ci sono tanti giocatori freschi anche perché questa è l'ultima partita della stagione dell'anno la Lazio ci arriva un po stanca per i tanti impegni per cui c'è pericolo che la Lazio non abbia i 90 minuti sulle gambe o meglio non tutti i giocatori arrivino al top io come me la giocherei beh dietro diciamo che tranne il dubbio Isai non ci sono molte molti altri punti di domanda Marusic che non sta giocando benissimo ragazzi vorrei Marusic che spingesse un po di più giocherà da una fascia dall'altra forse Radu o Lazzari a posto di Isai questa è una partita secondo me da Lazzari dove la Lazio deve spingere attaccare il Venezia concederà spazio e quindi Lazzari potrebbe essere devastante sulla fascia i due centrali sono quelli Acerbi e Luis Felipe curioso di vedere come giocherà Acerbi dopo le polemiche post partita a centrocampo mi aspetto qualche novità mi aspetto qualche novità perché Luis Alberto dopo la prova contro Genoa merita di partire di tutolare allo stesso tempo Basic contro Genoa non è stato lo stesso Basic che abbiamo visto nelle altre partite discorso simile anche per Cataldi Cataldi non mi sta piacendo era partito bene quando era diventato il titolare adesso sta un po tirando il fiato per cui non sarei sorpreso se leva partisse titolare io penso che però alla fine Sarri opterà per Cataldi Milinkovic Luis Alberto con Luis Alberto la Lazio troverà quella qualità che era mancata nel primo tempo contro Genoa e secondo me può sfruttare lo spazio che lascerà il Venezia soprattutto se Luis Alberto sarà in versione Genoa e non in versione spenta di altre partite davanti credo che non ci siano dubbi Murici è virtualmente out per cui ci saranno Zaccagni e Pedro sulle fasce con Felipe e Anderson centrali ecco Zaccagni e Pedro sono due armi fondamentali per la Lazio nel 4 del 3 gli esterni sono la chiave di volta e visto le performance di Zaccagni sono abbastanza convinto che Zaccagni farà un'altra buona prova Pedro è molto intelligente si fa sempre trovare nel posto giusto per cui se il Venezia farà la partita beh la Lazio ha buone chance di fare male al Venezia quello che mi preoccupa lo sapete tutti è la fase difensiva purtroppo la Lazio sbaglia troppi movimenti centrocampo spesso lascia la difesa scoperta e vorrei chiudere l'anno con un clean sheet ma se dovessi scommettere direi che il Venezia un gol alla Lazio lo fa sicuramente questo significa che la Lazio deve andare a Venezia con l'obiettivo di fare almeno due gol perché con due gol hai la possibilità di vincere se ne fai solo uno devi sperare che la difesa non conceda gol e questo purtroppo è successo talmente poche volte soprattutto è un trasferta che è poco realistico ripeto il Venezia non è una squadra che regala niente è una buona squadra ovvio con limiti tecnici ma una squadra che gioca a viso aperto una squadra che in casa soprattutto fa male e quindi la Lazio dovrà essere attentissima senza Cire Immobile bisogna trovare altri modi di segnare e questo è un problema grave servirà al miglior Felipe Anderson servirà Felipe Anderson di Genoa speriamo che sia quello che quello che giocherà contro Venezia e non quello visto nell'ultimo mese che era un Felipe Anderson molto spento senza Felipe Anderson in forma la vedo molto dura molto difficile però questo è il mio giudizio voi quale formazione dovrebbe utilizzare Sarri contro Venezia scrivetelo nei commenti qua sotto ciao alla prossima Grazie a tutti